Alessio Revisore 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 Buongiorno a tutti. Io lavoro in un paese che non è né molto famoso né molto conosciuto, che si chiama Timor Est. È un paese a metà strada tra l'Australia e l'Indonesia, che ha avuto 25 anni una lunghissima guerra civile con l'Indonesia che ha lasciato il paese praticamente distrutto. Essendo uno dei paesi più poveri dell'Asia, ci sono chiaramente tantissimi problemi di natura economica e sociale che vanno ancora risolti. Io sono arrivato a Timor-Est come tutte le persone che fanno un po' il mio lavoro, un po' per caso, un po' per scelta, ma sempre seguendo il filo logico di un pensiero, una considerazione che ha sempre accompagnato sia la mia vita da studente che la mia vita professionale. E la curiosità è questa. Noi sicuramente viviamo in un mondo che ha un livello di sviluppo tecnologico avanzatissimo. Abbiamo raggiunto la Luna 50 anni fa. Riusciamo a fare delle operazioni chirurgiche che sono sicuramente complessissime. Abbiamo un sistema di comunicazione che è globale. Per esempio, io sono in Skype, in video Skype, con la mia bimba che ha sei anni, da Timor-Est, con i nonni qui a Trento ogni domenica. Una cosa che sicuramente fa molto felice i nonni, ma che dieci anni fa era considerata fantascienza. Ecco, io mi sono sempre domandato, ma con tutta questa tecnologia a disposizione dell'umanità, perché un miliardo di persone soffre ancora la sete e non ha a disposizione acqua potabile? Non è forse più facile mettere acquedotti e rubinetti in Africa piuttosto che mandare una sonda spaziale su Marte? Quest'oggi vorrei parlare con voi di uno dei grandi problemi che tutt'oggi affligge l'umanità e che è il problema della mortalità infantile. Ogni anno nel mondo 4 milioni di bambini muoiono per cause che sarebbero facilmente prevenibili prima di raggiungere i 28 giorni di età, un mese di età. 4 milioni sono veramente tanti. Circa 11 mila ogni giorno. Ecco, vorrei far vedere questa diapositiva che rappresenta il problema in maniera un po' più precisa. Sono tutti dati dell'OMS basati su una ricerca dell'ENSET del 2005. Come possiamo vedere da quella curva che scende la mortalità nei bambini al di sotto dei 5 anni è decresciuta in maniera davvero rilevante negli ultimi 50 anni. Questo grazie a campagne di vaccinazione, grazie al controllo della diarrea, grazie a una maggior igiene, grazie allo sviluppo economico delle società. Invece, se guardiamo a quelle barrette verticali sul fondo del grafico, rappresentano la mortalità infantile e la parte gialla rappresenta la mortalità infantile precoce, cioè quella nei primi 7 giorni di vita che sono i più pericolosi e più delicati per un neonato. Ecco, possiamo vedere che la mortalità nei neonati e soprattutto la mortalità nei neonati nella prima settimana di vita è rimasta praticamente la stessa negli ultimi 50 anni nonostante tutto lo sviluppo tecnologico che abbiamo avuto nel settore della medicina. Quindi, se vogliamo raggiungere gli obiettivi del millennio nel 2015, se vogliamo veramente ridurre in maniera ulteriore la mortalità nei bambini, dobbiamo concentrarci in quel periodo della vita che è il più pericoloso. Dobbiamo partire dai primissimi istanti di vita. Ma perché continuano a morire i neonati nei paesi in via di sviluppo? Beh, sicuramente ci sono tantissimi motivi per cui questo succede. Motivi di ordine culturale, antropologico, economico. Si potrebbero scrivere dieci saggi sul problema. Io oggi vorrei sottolineare con voi uno di questi problemi che però è importantissimo. Questa foto è stata scattata nel centro del Vietnam circa cinque anni fa. Ma potrebbe essere stata scattata una settimana fa in Africa oppure un mese fa nel Centro America. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 90% dei macchinari medici donati o acquistati dai paesi in via di sviluppo smette di funzionare entro un anno dal loro acquisto. Questo succede chiaramente per vari motivi ma uno dei motivi principali è perché nei paesi in via di sviluppo non esiste un ecosistema di supporto che permette a questi macchinari di funzionare in maniera adeguata. Quindi se i macchinari si rompono non esistono in loco i pezzi di ricambio. Se anche i pezzi di ricambio ci fossero non esistono degli ingegneri biomedici adeguati che possono cambiare i pezzi e rimettere le macchine in funzione. Gli ospedali nei paesi in via di sviluppo sono diversissimi degli ospedali nei paesi occidentali. Sono disorganizzati, c'è molta polvere, alle volte ci sono pure degli insetti e quindi i macchinari molto costosi ma anche molto delicati si rovinano subito nel contesto dei paesi in via di sviluppo. E quindi ci troviamo con questa situazione i macchinari in un cortile a prendere polvere e cento metri più in là i neonati che muoiono nell'ala pediatrica dell'ospedale. Quindi che cosa fare di fronte a un problema di queste dimensioni? Circa dieci anni fa in Vietnam io stavo lavorando per la cooperazione trentina con due organizzazioni molto piccole ma molto dinamiche appunto del trentino, il gruppo trentino di volontariato e gli amici dell'onatologia trentina. Tra i vari progetti di cui mi occupavo stavo anche lavorando con l'ospedale locale del villaggio dove vivevo, una cittadina a metà strada tra noi e la Cina. L'ospedale in questione aveva un numero di parti che era davvero rilevante circa 15 mila nati ogni anno. Per fare un confronto in Trentino in un anno nascono circa 5 mila neonati. Quindi questo ospedale aveva da solo tutti i neonati del Trentino per tre volte. Il 30% dei neonati ricoverati nella pediatria di questo ospedale moriva entro una settimana di vita, non ce la faceva proprio, oppure quei pochi che avevano qualche speranza di cavarsela venivano mandati a noi su una motoretta oppure su un carretto insomma con mezzi di fortuna, non era ancora il tempo delle ambulanze. Arrivavano chiaramente da noi in condizioni critiche e la maggior parte comunque moriva. Ecco, nella ricerca di una soluzione a questo problema ho incontrato un ingegnere americano che erano moltissimi anni che lavorava in questo settore in Vietnam. Cercava in tutti i modi di riparare le macchine mediche, di creare un database di quale macchine esistessero e di quali petti di ricambio fossero necessari e disponibili e dopo un po' si era reso all'evidenza che era impossibile creare un sistema artificiale che facesse funzionare questi macchinari medici nell'ambiente del Vietnam in quel caso. E così gli era venuta l'idea di realizzare in loco con materiali locali e con ingegneri locali tutte quelle tecnologie mediche necessarie alla sopravvivenza dei neonati. A me chiaramente l'idea fin dall'inizio mi ha affascinato e quindi abbiamo deciso di lavorare insieme su questo progetto. La prima cosa che ci siamo domandati è perché muoiono esattamente i neonati ricoverati nell'area neonatale. E quello che abbiamo scoperto è che la maggior parte dei neonati nasceva prematuro e quindi moriva per una problematica che è molto comune alla maggior parte dei neonati prematuri che sono le insufficienze respiratorie. I bambini di 25 o 30 settimane di eccezionale non hanno ancora i polmoni che sono maturati e quindi non riescono a dare abbastanza ossigeno al corpo e muoiono dopo vari giorni di lavoro per cercare di avere abbastanza ossigeno nei tessuti. Ora, quindi con questo ingegnere americano avevamo deciso di provare a costruire un qualcosa che fosse adatto ai paesi in via di sviluppo e quindi abbiamo creato una macchina CPAP fatta in loco, fatta da ingegneri vietnamiti e che potesse essere adatta ai paesi in via di sviluppo e quindi la macchina non è costruita secondo il principio di come l'ospedale dovrebbe essere o come l'ospedale ci piacerebbe che fosse è costruita secondo il modo in cui l'ospedale purtroppo è. E quindi ecco che, per esempio, visto che l'elettricità è assolutamente instabile nei paesi in via di sviluppo la macchina ha uno stabilizzatore interno che stabilizza l'elettricità e la protegge visto che i dottori non sono molto esperti nella terapia respiratoria la macchina è semplicissima ha solamente tre funzioni e cinque bottoni non uno di più per poter essere usata in tutti i contesti possibili la macchina è completamente sigillata non ci sono nessun buco, diciamo oppure porta USB che permetta alla polvere o all'umidità di entrare e di distruggerla ma soprattutto tutti i circuiti della CPAP sono completamente lavabili possono essere lavati, asciugati, sterilizzati e poi riutilizzati per il prossimo paziente in modo che la possano usare per anni e anni dopo che sia stata donata e così siamo riusciti a fare una macchina che funziona praticamente in ogni ambiente ed è in grado di salvare appunto la vita quei neonati che altrimenti sarebbero morti di distress respiratorio all'inizio abbiamo chiaramente fatto un progetto pilota in un ospedale specifico del Vietnam e c'era bisogno di un sostegno, di un aiuto a realizzare tutta la parte di clinica medica tutti i protocolli di uso quando utilizzarla, quando smetterla quali bambini scegliere beh questo è stato realizzato tutto da medici volontari trentini del Santa Chiara di Trento oppure della rete ospedaliera trentina in un progetto di sviluppo finanziato dalla provincia di Trento il progetto ha avuto un successo davvero strepitoso un'ampia riduzione della mortalità infantile nella prima settimana di vita una riduzione dei trasferimenti a da noi una riduzione della metà del tempo di trattamento dei neonati e quindi ci siamo incoraggiati da questi risultati e abbiamo fatto il prossimo ospedale poi quello dopo e poi quello dopo fino a che la fondazione It's Miss West che è una fondazione basata in California che è una delle più grandi agenzie di sviluppo presente nel sud-est asiatico ha notato le potenzialità di questo modello e ha deciso di creare un programma che si chiama Breath of Life soffio di vita e che intende sostenere questo modello di sviluppo per tutti gli ospedali del sud-est asiatico e adesso anche dell'Africa io non ho molto tempo a disposizione quindi vorrei fare una storia di dieci anni molto breve abbiamo già distribuito quasi mille macchinari in 300 ospedali del sud-est asiatico e dell'Africa e anche del sud-asia come l'India pensate che ci sono 50.000 neonati ogni anno che sono al giorno d'oggi in trattamento con le tecnologie donate e procurate dal nostro programma ecco in conclusione io vorrei tornare a quello che dicevo un po' all'inizio alla domanda che mi facevo se all'inizio dei miei studi che all'inizio del mio lavoro ma è mai possibile che con tutta questa tecnologia a disposizione del mondo un miliardo di persone soffra ancora la sete io devo essere sincero io non ne ho la più pallida idea io so però che con un design che sia innovativo con un design che guardi ai bisogni concreti e reali di chi utilizza le tecnologie e non di chi le produce e con una logica che non guardi al profitto ma che guardi ai risultati che si ottengono nella pratica medica come in altri campi dell'attività umana è possibile raggiungere un modello di sviluppo tecnologico che sia appropriato prima di tutto ma poi che sia anche efficace per i risultati che ottiene e che sia soprattutto sostenibile nel tempo e questo è il programma Breath of Life e grazie a tutti per l'attenzione